Forte e radicato nel territorio, il Consorzio e il Coppa ha presentato il bilancio di sostenibilità 2010 e si conferma come una solida realtà nel campo dell'edilizia. Nonostante la crisi economica, il Coppa ha chiuso il 2010 con 144 assegnazioni di alloggi e con l'ingresso di 62 nuovi soci. E a legame con il socio, elemento centrale dell'attività del Consorzio e alla ricerca della sua soddisfazione, il Coppa ha dedicato un'apposita analisi per monitorare la qualità del rapporto con i propri clienti. In questo senso abbiamo condotto un'indagine di soddisfazione con più di 40 questionari consegnati ai soci nel corso del 2010 a persone che hanno completato il loro rapporto con la cooperativa e abbiamo avuto un dato importante. Più del 90% delle persone intervistate hanno detto che vorrebbero suggerire ad altri l'acquisto della casa in cooperativa. Dati e risultati raggiunti sono stati presentati nel corso di un convegno che si è tenuto ieri pomeriggio nella sede del Consorzio in via Paolini. Il convegno di oggi ha messo in risalto anche il fatto che Edilcoop nel corso del 2010 ha realizzato, registrato un indotto per il nostro territorio in termini di attività economica scaturita delle proprie attività, delle proprie iniziative per più di 15 milioni di euro. Quindi un dato molto importante per la nostra presenza, sempre più importante sul nostro territorio. Insieme è meglio il titolo della tavola rotonda che ha visto gli interventi di quattro relatori rappresentanti quattro esempi di collaborazione concreta con Edilcoop. Tra questi l'edilizia pubblica, in vista c'è il progetto per 40 alloggi in via di Gello, 20 ad affitto calmerato e 20 in edilizia convenzionata. Illustrata poi la sinergia tra cooperative, sottolineata dalla costituzione di un fondo regionale per l'housing sociale. Terzo esempio di collaborazione è il rapporto con Estra e l'attenzione al tema dei consumi e del risparmio energetico. Infine la presentazione del bilancio è stata anche occasione per annunciare un progetto in collaborazione con imprese private di prossima realizzazione, il villaggio Rosalinda, con la creazione di un centro residenziale nella zona di Viaccia. Viene trasformata in un intervento residenziale di circa 220-230 appartamenti più un'integrazione di attività di servizio commerciale per altrettanti 10-12 unità, insomma sono circa 4.000 metri. Favorire una sorta di mix di affitto, riscatto per consentire chi in questo momento magari vive una condizione di dipendente dove non ha certezza nel lavoro e dove non riesce a programmare bene il proprio futuro, la possibilità di dilatare i tempi dei propri impegni ma allo stesso modo comincerà a risolvere il problema dell'abitazione.